buongiorno a tutti gente varia ed eventuale e bentornati su gente di un certo livello in questo video voglio parlarvi di ciò che tutti idealizziamo come una delle figure più fighe che la storia ci abbia mai consegnato ovvero gli astronauti uomini che possono tutto dai fisici perfettamente allenati in grado di sopportare forze g in grado di strapparvi le mutande come rock così freddi ai tempi d'oro nonché menti brillanti pronte a risolvere qualsiasi problema nell'ambiente più ostile che l'uomo abbia mai visitato a sentirli descrivere così uno si immagina il cervello di einstein nel corpo di schwarzenegger e fidatevi che non si va poi molto lontano dalla realtà tranne per lui toyohiro achiyama 47 anni intelligenza nella media fisico dal lanciatore di coriandoli fumatore giornalista tv e futura star televisiva e qui vi racconterò la storia di come questo forest gap giapponese l'uomo che meno di tutti uno si aspetterebbe di veder fluttuare in orbita sia diventato il primo giapponese nello spazio dopo goku ovviamente era il 1989 e la guerra fredda era ormai agli sgoccioli in quel periodo il leader dell'unione sovietica gorbachev era nel bel mezzo del disarmo stava perdendo missili soldi e potere e agli stati uniti non andava bene o almeno erano felici ma ciò che li faceva incazzare a bestia era che si sarebbe chiuso anche il programma spaziale russo e tutti gli scienziati che vi lavoravano sarebbero potuti emigrare in altri paesi e in un periodo storico dove le uniche due nazioni ad essere state nello spazio erano russia e stati uniti queste non volevano certo trovarsi una bandierina cinese piantata sulla luna così gli stati uniti fecero di tutto per incoraggiare finanziare la corsa allo spazio dei russi bene e che c'entra il giappone in tutto questo il giappone in quegli anni era nel pieno della bolla economica ovvero stava creando soldi e ricchezza a una velocità stratosferica ma nonostante questa ricchezza sfrenata il loro soldi non potevano comprare anni di esperienza e ricerche nello spazio così il modo migliore per avere un astronauta di pura razza nipponica in orbita era quello di finanziare un lancio della decadente industria aerospaziale russa e tutta questa serie di coincidenze culminò con un ultimo fattore i 40 anni dell'emittente televisiva di tokyo tbs la tv che ha prodotto e messo in onda Takeshi's Castle per festeggiare i suoi 40 anni ebbe una delle idee più geniali della storia della tv spendere 1,5 miliardi di yen ovvero circa 13 milioni di euro per finanziare il sogno di un'intera nazione e per farci su anche un programma tv già che c'erano la scelta per il primo giapponese nello spazio ricadde su toyohiro hakiyama il perché è ancora un mistero che rovella le menti della gente al pari del perché cazzo leonardo di caprio non è salito su quella porta con rose forse per la sua conoscenza del russo non spiccicava una parola forse per la sua incredibile integrità fisica 47 anni e fumatore forse per il corpo allenato a sopportare sforzi enormi l'unico sport che praticava era portarsi sigarette alla bocca la cosa più vicina allo spazio che aveva vissuto era stato fare un reportage sulla distruzione dello shuttle challenger nel 1986 e questo signor nessuno venne scelto oppure obbligato per essere il protagonista di una delle più gloriose pagine di storia della sua nazione diventò protagonista di nihojin hatsu uchuhe e perdonatemi la pronuncia ovvero il primo giapponese nello spazio appena scelto venne mandato alla star city ovvero il campo d'addestramento dei cosmonauti russi dove lo addestrarono in pieno russian style e dopo un anno di vodka e cipolle fu considerato adatto per il lancio o almeno per non morire durante il lancio la mattina del 2 dicembre 1990 a chi ama venne messo sul razzo a bordo del soyuz tm 11 con i cosmonauti victor afanaseyev e musa manarov portandosi dietro sei videocamere scorta minima per la sopravvivenza e una mascotte di peluche e prese il volo no iniziò a vomitare durante i due giorni di viaggio che lo portarono alla mir che per chi non lo sapesse era la stazione sovietica in orbita intorno alla terra prima dell'ISS ovvero la stazione spaziale internazionale i due russi che viaggiarono con lui dissero che non avevano mai visto un uomo vomitare così tanto oltre al fatto che continuava a piangere perché gli sembrava che la testa gli stesse esplodendo per la pressione e la cosa non passò per sette giorni 21 ore e 54 minuti fluttuò e vomitò ma lo show doveva andare avanti come in una sorta di grande fratello in cui il protagonista per ovvie ragioni non può essere cacciato fuori dalla casa a chi ama passò tutto il suo soggiorno nello spazio cazzeggiando nel modo più assoluto cose tipo faceva fluttuare rane che i russi stavano usando per esperimenti oppure giocava con un kendama a gravità zero o ancora faceva il pirla fingendo di svolazzare a gravità zero con due ventagli insomma tutto quello che si vorrebbe vedere in uno show televisivo vi lascio sotto nella descrizione il link di un video con una canzone che la libreria di youtube definirebbe ispirante in cui viene ripercorsa velocemente tutta la sua avventura fate caso ai suoi occhi sempre gonfi di lacrime anche durante le gag il 10 dicembre 1990 tornò a casa sano e salvo e quali furono le sue parole appena vide il cielo sopra la sua testa parietatemi dello buono il cibo e quale cosa da fumare signori davanti a quest'uomo c'è solo da inchinarsi annunciò il suo ritiro d'astronauta il giorno stesso anche perché quale altri pazzi avrebbero potuto rimandarlo lassù forse solo la tbs in un'operazione nostalgia e solo quando fu tutto finito si resero conto di aver mandato non solo il primo giapponese nello spazio ma anche il primo giornalista che se l'avessero notato prima forse qualche domanda se la sarebbero fatta nel 1995 a soli 52 anni decise di lasciare la sua attività da giornalista lasciò Tokyo la famiglia gli amici e parenti per andare a aprire una fattoria a Fukushima era già stato fortunato prima dai quando mai una persona del genere sarebbe potuta andare nello spazio se non grazie a un culo immenso sopravvisse al disastro nucleare del 2011 e da allora insegna agricoltura in un'università di Kyoto per concludere vi lascio con le parole con cui la stampa mondiale lo definì un po' per sfottere l'infimo livello a cui l'industria aerospaziale russa si era spinta un po' per prenderlo in giro gli dissero che lui era un fortunato idiota sbevazzatore di whisky simile a un personaggio nevrotico di Woody Allen le cui riflessioni nello spazio sono la certezza che non sarà mai il giullare spaziale che avrebbe voluto essere ma personalmente penso che queste siano solo cattivere dettate dall'invidia perché lui nonostante il suo stesso fisico gli fosse contro lui cazzo nello spazio c'è andato